Abbiamo dei dati straordinari sui test rapidi. I test rapidi di ultima generazione riescono a, e lo dico anche per i microbiologi che ci stanno ascoltando, riescono a evidenziare virus che hanno dei CT di cicli di amplificazione intorno a 37-38, vuol dire cariche bassissime. Sorride Roberto Rigoli, primario della microbiologia di Treviso, quando gli si chiede dei suoi test rapidi. Partita dal laboratorio del Caffoncello, la sperimentazione continua a dare risultati più che incoraggianti e la validazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, come preannunciato dal presidente Zaia, è dietro l'angolo. Cosa significhi il test rapido? Lo spiega lo stesso Rigoli. Il test rapido va alla ricerca dell'antigene con il tampone nasofaringeo e la risposta avviene in 10-15 minuti. 10-7 minuti. Il test costa intorno ai 12 euro, addirittura siamo arrivati con l'ultima contrattazione a 10 euro e qualche centesimo. Tempi velocissimi e costi contenuti, quindi il mix ideale per far fronte al flusso autunnale e alle mille incognite che ancora ci sono. Nonostante la fotografia attuale sia comunque rassicurante, qualcosa nel virus, dice la pratica quotidiana, è cambiato. Noi vediamo che ci sono dei focolai, naturalmente abbiamo visto tutti che l'età media si è abbassata, contemporaneamente però osserviamo che la gran parte di questi sono sintomatici, quindi questo ci fa ben sperare. Abbiamo anche anziani, sto parlando di pazienti del 1924, del 1926, che hanno alta carica e sono asintomatici o con sintomatologia molto lieve. Quindi questi sono dati di fatto sui quali dovremmo riflettere. Da qui il messaggio del primario. Partendo dai dati mi sentirei di dire ai trevigiani di stare tranquilli, ma stare tranquilli non vuol dire non usare le precauzioni, quindi mascherina, lavaggio delle mani. E tutti insieme cerchiamo di mantenere queste attenzioni per vedere cosa succederà a novembre, a ottobre e novembre, perché nessuno è in grado di dirlo, anche quelli che ipotizzano, ipotizzano, ma nessuno è in grado di dire cosa succederà a novembre.